A pochi chilometri dal centro di Milano sorge una delle più antiche abbazie cistercensi, Chiara Valle. La storia dell'abbazia comincia nel 1135, quando Bernardo di Fontaine, un nobile cavaliere francese che 23 anni prima si è fatto monaco nel convento di Citeaux, torna in Francia reduce dal concilio di Pisa e fa tappa a Milano. I nobili e il popolo offrono all'abbate francese di restare come loro arcivescovo, ma umilmente Bernardo rifiuta e chiede soltanto un poco di terra dove costruire un convento. Così già nel 1150 inizia la costruzione in pietra e l'abbazia si ingrandisce. Tra il 1172 e il 1221 viene edificata la chiesa. Il bel portale di ingresso alla chiesa è del XIII secolo. I battenti in legno, cinquecenteschi, portano scolpiti nei riquadri quattro santi, tra i quali è raffigurato lo stesso San Bernardo che regge la chiesa con una mano. La facciata ha la tradizionale forma a capanna. Purtroppo nel 600 essa fu in parte demolita e poi coperta con pietra bianca. Solo nel 1926 fu rimossa la parte superiore della copertura, riportando alla luce la bella bifora e il rosone centrale e ricostruendo le parti distrutte. La pianta è a croce latina, a tre navate e con abside quadrata. Lo stile non è puro, fondamentalmente è gotico, ma il valore dell'architettura cistercense deriva proprio dalla duttilità con cui i monaci si piegarono al gusto delle regioni in cui si trovavano. Nel transetto sud, alla fine del Quattrocento, è stata ricavata una scala per mettere direttamente in comunicazione la chiesa con il dormitorio. In cima alla scala si trova una bellissima Madonna con bambino, opera giovanile di Bernardino Luini. La Vergine sorride dolcemente ai monaci, che ogni sera, passandole davanti, ripetono, secondo la tradizione cistercense, il saluto evangelico, Ave Maria. Nel transetto vi sono due importanti affreschi dovuti, come tanti altri, ai fiammenghini. In quello nord, dedicato ai martiri cistercensi, si trova raffigurato il martirio delle monache del monastero polacco di Vittavia. In quello sud, dedicato ai santi, beati e vescovi cistercensi, domina l'affresco dell'albero genealogico della famiglia cistercense. È un grande cedro che nasce dal petto di San Benedetto, padre di tutto il monachesimo occidentale. Sembrerà curioso, nel vedere la splendida ricchezza dell'abbazia, ricordare che per più di duecento anni essa fu priva di qualsiasi immagine figurativa, anche di soggetto sacro. Così aveva voluto il fondatore San Bernardo, perché nulla potesse distrarre i monaci dalla meditazione. Anche il coro, un tempo, era soltanto austeramente funzionale, secondo la regola. Ma nel 1645, Carlo Garavaglia ne scolpisce una versione trionfale, che presenta vari episodi della vita di San Bernardo. Il più antico affresco della Chiesa, datato fine del XIII secolo, si trova accanto alla porta che dalla Chiesa permette l'accesso al chiostro, che è simbolo della stessa vita monastica. A causa delle distruzioni operate nel secolo XIX, il solo lato originale è quello nord, che stiamo percorrendo adiacente alla Chiesa. Molto belle sono le quattro colonnine annodate e suggestivi i capitelli originali. vi sarebbe ancora tanto da dire e da vedere, ma è tempo di andare. Rimane l'invito a visitare questo luogo di pace, di spiritualità e di arte, che ripropone intatto nel tempo, il suo alto messaggio di civiltà.